Lotto numero 96 Mark Costaby Electric Dream del 2002 Olio su tela, opera firmata e datata in basso a destra e a retro con il titolo Le dimensioni sono 110 x 90 e un olio su tela, siamo collegati con i telefoni Perfetto, viene messo in gara a 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 Ed io mi fermo per offerta ricevuta al banco 2100, cosa mi dice la sala e cosa mi dicono i telefoni? 2100, 2200 Leonora, 2200 euro per la prima Giovanni cosa mi dice? 2300, 2300 la signora vicino alla colonna 2400 il telefono, cosa mi dice la sala? 2500 la sala 2500 euro per la prima 2500 euro per la seconda 2600 Leonora 2600 euro per la prima, per la seconda 1, 2, 3, Eleonora 2006